C'è Jacopo Vignaroli, direttore generale della SBA, quest'anno rinnovata in maniera diciamo così apicale ma l'ossatura rimane quella dello scorso anno. Sì, oggi partiamo con la nuova avventura, con la prima squadra che affronterà il campionato di Serie C Silver e siamo stati costretti a fare dei cambiamenti perché l'estate è stata turbolenta senza entrare nei dettagli. L'ossatura, come hai detto te Carlo, rimane la stessa dell'anno scorso e il nucleo storico è fatto da ormai i nostri ragazzi che parlare di nucleo storico sembra che hanno una certa età, invece sono tutti abbastanza giovani perché si parla di 24-25 anni, però sono la spina dorsale, la colonna portante anche in questa stagione della nostra squadra e quindi i nostri telespettatori ormai li conoscono grazie alle nostre telecronache. Diciamo che le principali novità riguardano l'allenatore che dopo la rinuncia di Salomone che è venuta ai primi di agosto ha visto l'ingaggio di Giuseppe Delia proveniente da Agropoli in Serie A2 dove ha rivestito negli ultimi tre anni l'incarico di vice allenatore, prima aveva fatto altre cose ma è inutile raccontare la storia del mondo comunque quindi un allenatore che proviene dalle serie professionistiche e poi per quello che riguarda i giocatori abbiamo perso Spillantini che comunque si è accasato in Serie B a Fabriano questo dà anche merito al lavoro che il ragazzo ha fatto l'anno scorso con noi ma anche la chance che la nostra società gli ha concesso prendendolo da Sansepolcro dove giocava in promozione e dandogli in mano la squadra di Serie C e quindi quest'anno si ritrova grazie a tutte queste situazioni in Serie B a Fabriano e al suo posto abbiamo preso Giulio Bianchi che anche lui ragazzo giovane un 96 quindi 22enne ne ha ancora da anzi 21enne quasi 22enne che viene da Terra Nuova l'anno scorso era il playmaker titolare dell'Ottigalli Terra Nuova quindi era il nostro avversario ma ho già avuto modo di interagire abbastanza con lui un bravissimo ragazzo e dal punto di vista tecnico già lo conoscevamo quindi crediamo insomma di essere riusciti a sopperire l'assenza, la partenza di Spillantini con questo buon acquisto e l'altra novità è stata la partenza, si è fermato per ora speriamo che poi riprenda nell'attività cestistica Gianandrea Fratini che era uno insomma dei nostri giocatori Giaguaro un punto di forza, un uomo da 30 punti a partita quindi difficilmente sostituibile